Andando invece all'attualità, c'è un giocatore della Fiorettina che è Vlaovic che sta tenendo i numeri di un campione del Bayern, che è Lewandowski. Ecco, cosa ti colpisce di questo ragazzo serbo? Ma prima di tutto è un ragazzo molto giovane, ha 21 anni, ha fatto tanti gol, tanti veramente. E ho seguito ieri anche un po' la partita con la Sassuola. È un giocatore che ha fatto ieri anche gol, è un giocatore molto bravo, ma comunque io gli consiglio di rimanere ancora a Firenze per almeno un po' di tempo, perché rincorre i soldi quando tu hai 21 anni non vale la pena, perché lui sta in una piazza di cui sta bene, fa tanti gol, ha una squadra che sta rinascendo un po' verso tempi positivi, quindi secondo me è ben consigliato di rimanere ancora un po' nella Fiorentina. Poi si vedrà, perché è importante di non fare bene una stagione, è importante di fare bene per qualche stagione, di confermare le sue doti. Io credo che può diventare un grande giocatore, ma con la sua età proprio gli consiglio di rimanere ancora un po' nella Fiorentina.